Io sono un copywriter da anni e all'inizio commettevo un errore specifico che limitava di estremamente tanto le mie vendite e quelle dei miei clienti. La parte stronza? Che quando fai questo errore non sai che lo stai facendo. Questa cosa che ti sto per spiegare, che ti dico non è un piccolo trucchetto, non è una strategia top 10 tips and tricks, può fare la differenza tra fare 1% di vendite e 5% di vendite. Ora per capire tutto devo spiegarti un concetto prima di arrivare al dunque, che questa è una cosa che so al 100% che nessuno ti ha mai detto perché non girano questi dpi di consigli su internet. E allora tu dici Andrei ma allora tu come l'hai imparato? Sbattendoci la testa contro, violentemente. E prendi appunti altrimenti il video è completamente inutile e tempo sprecato. E non ti piace sprecare tempo, vero? No. Questo grafico rappresenta il livello al quale tu vuoi ragionare come copywriter. Questo grafico rappresenta il livello al quale tu vuoi ragionare come copywriter. Puoi ragionare a livello strategico e comunicativo, oppure puoi ragionare a livello delle singole parole che tu usi. Queste due cose sono diverse e ora ti spiego perché. Esiste un'enorme differenza tra le parole che dici e il messaggio che tu vuoi trasmettere. Ti faccio un esempio, ascolta bene. Se io ti dico tesoro, ti troverò ovunque tu sia. Questa frase è una frase d'amore, dolce e carina? O è una frase malefica, schizofrenica, pazza? Allora, com'è? Dolce o malvagia? Dipende. Dipende da come lo dici. Guarda questo. Tesoro, ti troverò ovunque tu sia. Questo è bello dolce, no? Senti questo. Tesoro, ti troverò ovunque tu sia. Questo è inquietante e molto probabilmente te lo sognerai stanotte, prego. Il punto è che le parole sono un involucro. E questo involucro comprende sotto un messaggio. Il messaggio è impacchettato nell'involucro che sono le parole. Quindi abbiamo le parole che sono il cartone che impacchetta il messaggio, ma il messaggio che cos'è? I messaggi invece sono qualcosa di molto più profondo. Sono qualcosa di, a dire il vero, astratto, non si può toccare, non sono parole. Sono le fucking connessioni elettriche tra i tuoi neuroni, sono pensieri. Il messaggio intrinseco che c'è alla base. L'emozione che a me arriva. Vedela proprio così. Il messaggio è l'emozione. Le parole sono l'involucro che contengono questa emozione e che concedono a un essere umano di mandarla a un'altra persona. Se due persone stanno parlando, Marco e Alfonso, Marco dice qualcosa ad Alfonso. Ma per dirlo deve prendere il concetto dal suo cervello, metterci delle parole sopra e poi inviarlo ad Alfonso. Quindi quelle parole sono uno dei tanti mezzi che noi utilizziamo per mandare il messaggio da X a Y. Ci sei fino a qua? Perché questa parte è importantissima e non ci si pensa mai. È molto logica, ma non ci si pensa mai. E nel copywriting è killer se non capisci sta differenza. Ti ammazza le conversioni. Prendiamo un attimo all'esempio dolce slash inquietante di prima. Qual era il messaggio di quella frase? E ti ricordo la frase? Tesoro, ti troverò ovunque tu sia. Qual è il messaggio intrinseco che c'è alla base, che c'è sotto? Il messaggio è una roba tipo Ovunque tu sia, ti troverò per sempre e ti farò fuori perché sono molto motivato in maniera del tutto perversa dall'idea di farti male fisico e mentale. Tutto questo ammaradam che ti ho appena detto è incluso in quelle sei parole. Il messaggio di base è quello. L'involucro che posso usare può essere quello che ti ho appena detto, quelle sei parole, ma possono essere anche tanti altri. Ad esempio io posso dirti È inutile che tu provi a scappare. Sarai mio e non c'è niente che tu possa fare per cambiarlo. Capito cosa intendo? Ora che hai capito questo concetto, che spero di averti spiegato bene, spero che l'hai capito, devi sapere questo. Il copywriter strategico, quello che fa soldi, non solo comprende differenza tra messaggio e involucro, ma riesce a usarlo a suo vantaggio. Ti faccio un esempio di come io lo uso con i miei clienti. Recentemente ho avuto un nuovo cliente che si chiama Lorenz. Adesso io gli aiuto a fare email marketing. Stavamo rifacendo questo copy per far iscrivere le persone alla mailing list e questo è il copy che io ho messo nella home. Voglio inviarti email pieni di valore, mettimi alla prova. Il messaggio alla base è questo. Oi, ti garantisco che se entri in questa mailing list riceverai informazioni utili e di valore. Qual è il messaggio? Ora, perché ho usato quell'involucro lì? Perché? Io alla fine potevo anche scrivere Iscriviti alla newsletter per ricevere informazioni di valore. Potevo scriverlo un po' più papale papale. Perché non l'ho fatto? Ci arrivi? Trasciando che questa versione Iscriviti alla newsletter per ricevere informazioni di valore ha 50 problemi diversi, La cosa principale è che è cliché ovvero che è uguale a quello che fanno tutti quanti gli altri tutta la concorrenza del mio cliente e io voglio differenziare, voglio rendere unico il mio cliente e questo è uno dei modi che puoi usare per differenziare il tuo cliente o il tuo copy usando un involucro diverso per lo stesso messaggio. Ora, torniamo un attimo allo schema iniziale. Come avrai capito, il messaggio si trova a livello strategico ed è una decisione che va presa ancora prima di scrivere il copy. Le parole sono robe tipo basso livello che sono molto semplici da fare dal punto di vista copy e dire il vero affinché sai più o meno cosa fare e cosa non fare sai un po' le regole, hai studiato. Ora, come si posiziona quello che tu ho appena spiegato nel processo di scrittura del copy? E a proposito, se non sai quali sono gli step per scrivere un copy magari sia un po' più principiante io gli spiego, gli altri no, io sì, sta in questo video qua. Ecco dove posizioni ciò che tu ho appena spiegato nel processo di scrittura del copy. Tu devi scrivere il copy, no? Allora, prima di scrivere il copy ti prendi del tempo per fare quella che si chiama la struttura del tuo copy ovvero step by step tutti i messaggi che tu vuoi mandare in ordine i messaggi non li involucro quindi prima fai una lista proprio fatti una struttura dei messaggi una bullet list dei messaggi che vuoi inviare e dopo, solo dopo ho fatto la struttura passi alla scrittura del copy che è la scrittura del involucro, ok? Penso sia chiaro lo sto spiegando come a un bambino però penso sia chiaro ovviamente lo step dello schema viene dopo briefing e ricerca quindi potresti fare briefing, ricerca, schema copy, revisione, consegna ma non è finita qui perché questo concetto che ti ho spiegato è importante anche nella strategia stessa di marketing non strategia del copy che è lo schema in pratica non strategia del copy strategia proprio di marketing che è ancora più grande comprende tutto ciò che c'è dentro quella campagna design, copy, tutto quanto perché? perché c'è un problema molto comune che io vedo continuamente con tanti copy se non lo sai ho un corso con tipo più di 1500, quasi 2000 persone dentro vedo un problema che è molto comune dai copy che vengono fatti da quelli che sono più principianti è proprio un problema di tutti i principianti e a dire il vero di tantissimi copy che si vedono sul mercato nel 2023 perché sono quasi tutti mediocre e fanno tutti un po' schifo quindi qual è questo problema? il problema è che i copy hanno questo lead questa leading idea questa idea principale che porta avanti il copy devi comprare ecco perché è tutto così tutte le sales page sono devi comprare ecco perché le ads sono così oi ti interessa ecco perché oppure ecco perché ti interessa è sempre questo che è la cosa più facile la cosa più veloce che tutti quanti ci arrivano ma questo è molto base è una fucking serie di motivi per cui devi comprare quella cosa è come tipo provare a costantemente giustificare se stessi è tipo giustificare il prodotto non è quello che fa l'apple non è quello che faceva Steve Jobs mio padre devono esserci altre ragioni per leggere oltre il devi comprare perché perché se fai un copy in cui devi comprare ecco perché stai toccando emotivamente forse solamente le persone che sono in un certo punto di consapevolezza quindi o che vogliono già una soluzione o che ahimè ancora peggio conoscono già il tuo prodotto quindi tu in questo modo escludi tutti quelli che sono prima nella consapevolezza se vuoi includere tutti e ridurre il rischio di targetizzare le persone sbagliate devi andare oltre e creare qualcosa di innovativo ora mi rendo conto che ti sto dicendo cose molto astratte ok e infatti questo video è indirizzato a coloro che scrivono già copy da un po' di tempo non ha totali novellini però voglio farti un esempio perché magari cominci a posizionarlo meglio nella tua testolina allora ti faccio un esempio c'è questo show questa serie tv che si chiama The Boys forse l'hai vista è quella compatriota hanno fatto un sacco di meme ora uno dei motivi per cui questa ha un successo enorme ha avuto e sta continuando ad avere un sacco di hype un sacco di voglia di vederlo l'ho visto anche io tutto è forte hanno un sacco di meme hanno un sacco di no quella parte lì del sono migliore sono più forte più intelligente sono migliore sai come loro fanno il marketing? l'hai visto? allora in pratica se non lo sai in questa serie c'è questa azienda che si chiama Vot International e questa è un'azienda fittizia di supereroi è un'azienda che produce supereroi è tutta una grande presa per il culo è molto ironico il programma al posto di creare The Boys e dire tipo vieni a vedere The Boys iscriviti ad Amazon Prime al posto di fare quello hanno creato una pagina fittizia della azienda del programma di Vot e c'è proprio questa pagina sinistra Vot International in cui loro fanno vedere le notizie come se fosse tutto quanto reale quindi stiamo rimanendo l'universo di Vot International e di The Boys e la pagina rimane attiva questo è un metodo geniale cosa avrebbe fatto un copywriter base? ecco perché devi venire a vedere The Boys azione emozione vieni a vedere The Boys no non si fa così è un modo completamente diverso di nuovo so che questo magari non è che ti fa avere una illuminazione totale su come scrivere il tuo copy però dovrebbe offrirti un altro strumento ed altro check finale da fare quando scrivi copy per garantire che quello che scrivi non è la solita merda perché la solita merda non va il cliché non funziona that's it oggi ti ho spiegato roba che generalmente spiego solamente nei miei corsi perché è per chi sa già quello che fa però spero di aver raggiunto le persone giuste che sanno cosa fare con queste informazioni se per caso hai bisogno di capire meglio proprio partendo dalle basi che cos'è il copywriting e come funziona guarda il video di cui ti metterò il link alla fine contiene le basi ma prima di andare via ti annuncio che ho scritto un libro in cui spiego l'ho scritto veramente io non c'è un ghostwriter l'ho proprio scritto io mi sono messo lì come un pazzo a scrivere da capo a fondo su come scrivere copy parte dalle basi e anche per principianti e insegna tutto quanto ok tutto per capire come funziona il copywriting per capire le basi e per andare anche un po' oltre le basi e scrivere i tuoi primi copy che sono veramente persuasivi e che possono per davvero vendere il link a quello lo trovi in descrizione oppure sullo schermo alla fine del video that's it I'm done ciao 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 ciao